La ricerca scientifica è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nella società dove viviamo. La qualità della nostra vita cresce grazie alla ricerca. La ricerca scientifica anche suscita domande di carattere filosofico, talvolta anche esistenziale e teologico. Occorre rivalutare questa dimensione umanistica esistenziale nella scienza, rivalutare l'umano nella scienza e non contro la scienza. In questa Università Pontificia della Santa Croce nel 2005 nasce il progetto del Centro di ricerca di documentazione di scienza e fede. Due portali web in italiano e in inglese con oltre 200.000 pagine consultate ogni mese, un seminario permanente lungo l'anno con giovani ricercatori da tutta Europa, oltre 150 presenze all'anno, workshop, una collana di libri, il desiderio di aumentare, contestualizzare la formazione umanistica e filosofica degli operatori scientifici perché la scienza continua a essere tale in presa di verità ma guidata da una dimensione umana.